Benvenuti su Viral Gossip News. Prima di cominciare, ti incoraggiamo a iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche, in modo da rimanere sempre aggiornato. È un semplice atto, ma per noi è di grande importanza. Ti ringraziamo. Nell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi 2024, Matilde Brandi non è stata accolta calorosamente. Tra i concorrenti non famosi, la percezione su di lei è piuttosto critica, descrivendola come una persona diretta e propensa ai conflitti. Alcuni, come Cadi Gay e Alina Vereconi Scortecci, la vedono come un elemento di discordia, mentre Peppe Di Napoli e Pietro Fanelli non nascondono la loro antipatia, con quest'ultimo che la etichetta addirittura di arrogante. Nonostante le critiche, Matilde spera di poter ribaltare queste impressioni. La tensione nell'aria è tangibile, ma Matilde si trova ad affrontare una sfida ancora più grande, durante un'esplorazione con altre concorrenti, si imbatte in un serpente. Il terrore è palpabile, Matilde, presa dal panico, urla e fugge, seguita dalle sue compagne. Questo momento di paura diventa immediatamente virale sui social dell'Isola dei Famosi, catalizzando l'attenzione del pubblico. Nonostante l'incidente spaventoso, Matilde trova conforto nelle parole di luce, che cerca di calmarla ricordandole che il pericolo è ormai passato. Matilde riconosce il suo timore, ma si mostra rassicurata e pronta a continuare l'avventura. Ora, vorremmo sapere cosa ne pensate voi. Lasciate un commento qui sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutte le vicende dell'Isola dei Famosi e molto altro ancora.